Cari amici e amici di Terra del Sole News, buonasera. Siamo all'interno dell'antica libreria del Corso dedicato alla nostra cara libraia Teresa Passore e sono con lui, suo fratello Francesco, che è un vulcano in realtà, perché appena hai inaugurato questa bellissima sede nel cuore del centro storico di Canosa, siamo nei pressi ovviamente del Corso in Sabino per chi volesse venirci a trovare, ecco abbiamo già realizzato degli eventi. E' il primo, questo, con l'autrice Stefania Zipparri e con la firma d'autore. Spiegaci perché questa iniziativa e come si chiama. Noi ogni anno organizziamo una rassegna che si chiama Quando piovono i libri crescono le idee. Grazie. Sì, faccio cascare i libri, no ma non li tengo, vai. E quindi abbiamo organizzato questa rassegna, va da gennaio a maggio mediamente, oggi assisterete a questo primo incontro, il firma copie con l'autore e questa volta è un'autrice, di fatti è una collega, si chiama Stefania Zipparri. E se posso comincerei subito con dei ringraziamenti. Vorrei ringraziare innanzitutto la giornalista qui accanto, Claudia Vitrani, e la Terra del Sole per la disponibilità e per le sue dirette che ci consentono di essere visibili in questo momento di pandemia. L'altro ringraziamento lo faccio a nome e per conto della preside delle Naudi di Canosa di Puglia, la professoressa Brigida Caporale, che mi ha chiesto di inviare proprio questo saluto perché questo incontro a cui lei tiene molto e mette in evidenza l'importanza della cultura in questo momento di pandemia. Scrivere e comunicare sono esercizi fondamentali per superare questo brutto momento. Ringrazio anche le colleghe che sono venute a trovarci per questo firma copie. Difatti è una delle prime volte che noi facciamo questo, poi l'autrice porrà la dedica al suo libro di poesie. E intanto faccio i nomi perché stanno qui in presenza, dalla professoressa Distasi Rosi, alla professoressa Fernanda Faretina, alla professoressa Antonella Barbarossa, alla professoressa Paola Di Falco. E abbiamo con noi anche un ospite che è il suo figliolo, il dottore, quindi ci fa piacere di questa sua presenza. Anche lui ha frequentato l'antica libreria del corso quando era piccino e quindi questo serve a far capire quanto importante sia proprio l'ambiente culturale. Ecco, allora, Francesco, io non vedo l'ora di sentire la nostra Stefania Zipparri e soprattutto le sue poesie che tanto ci hanno fascinato ed emozionato. Che ne pensi? Sì, assolutamente. Prima è doveroso presentare la collega. Stefania Zipparri presenta il suo primo libro, raccolta di poesie, come un albero di nuvole. Stefania Zipparri vive a Canosa di Puglia, è sposata e ha un figlio. Si è laureata in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bari, Aldo Moro. Ha conseguito l'abilitazione alla professione forense e a quella all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche. Attualmente è insegnante di sostegno presso l'IS Naudi di Canosa di Puglia. Fin da piccola ha amato la lettura, a cominciare dai fumetti, passando per i romanzi ed approdando alla poesia. Ha coltivato la passione per l'enigmistica, specie per i cruciverba, a schema bianco. Ama il cinema, quello di Hitchcock ed in particolare la musica brasiliana, ed attualmente quella portoghese di nuova generazione. Non l'avrei mai sospettato, vero? Vero. Vista? E comunque ci fa piacere. Non ha limiti però la sua curiosità. Scrivere è sempre stato il suo modo migliore per comunicare. L'approccio alla poesia è recente. Comincia in maniera sperimentale e prosegue fino a trasformarsi in una necessità espressiva. Signori, passo la parola alla Stefania Zippari. Ecco. Buonasera Stefania. Ciao Claudia. Buonasera a tutti. Fa piacere anche a me. Da tanto tempo che non possiamo vederci. Insomma, le possibilità d'incontro sono sporadiche. Quindi mi fa piacere anche poter vedere le colleghe che sono, che vedo soltanto in DAD. Quindi oggi mi fa piacere poterle vedere, sia pure con la mascherina. Comunque volevo salutare tutti, salutare Francesco, ringraziarlo per avermi invitata, avermi offerto l'opportunità, diciamo, di presentare questo mio piccolo lavoro. e volevo ringraziare l'editore, l'editore che è HSL Edizioni, nella persona di Vito Cassano in particolare, che mi ha, insomma, creduto in me e mi ha sostenuta e mi ha offerto anche lui questa bella possibilità. Volevo ringraziare appunto le colleghe che sono venute qui e che mi hanno onorata, così come tutti coloro, quanti sono in diretta in questo momento, mi stanno ascoltando. Quindi sono onorata, diciamo, della loro presenza. Allora Stefania, come nasce la passione? Come nasce la passione per la poesia? Quando è nata? Sì, nasce all'improvviso, nasce con la passione per la lettura. Nasce anche abbastanza recentemente, perché insomma le mie letture erano di diverso genere, ma poi si sono avvicendate nel corso del tempo, sono cambiate nel corso del tempo. E' una scoperta recente, così come è recente proprio l'approccio alla scrittura, questo mio voler provare a cimentarmi con il testo poetico, anche perché il tipo di modalità espressiva, diciamo, mi doveva servire a superare un mio limite, che è quello della divagazione, della regressione. Io tendo un po' ad essere logorroica, diciamo, a perdermi, no? Ad andare verso tante direzioni. Invece la poesia ha, in questa sua capacità di realizzare una sintesi, la possibilità di portarmi, di riportarmi, diciamo, a tutto ciò che è più importante. Ed è uno strumento che mi è servito molto e che ha manifestato a un certo punto, è diventato urgenza, urgenza, appunto necessità espressiva, come diceva Francesco nella presentazione, e quindi, diciamo, ho cominciato e poi questa necessità si è ripresentata e ho continuato a scrivere. Ecco, quindi la ragione dello scrivere. La ragione dello scrivere, io non te la dirò così, te la dirò leggendo, perché le ragioni della mia scrittura sono racchiuse nell'antre, nell'ingresso, diciamo, a questo libro che comincia proprio così prima di aprirsi, diciamo, agli scritti. Lo leggo, vado a leggerlo. Entriamo proprio nel vivo. Scrivo perché ne ho bisogno, un po' come mangiare. Scrivo rigurgitando parole e ricomponendo pensieri. Scrivo in fretta a volte, per non lasciar che fugga via l'ascolto di me stessa. Scrivo perché mi rilassa. Quel fluire incessante della mia mente esige un posto. Scrivo perché è necessario, incanala una certa follia, scrivere e terapia. Scrivo per amore, per esercizio di libertà, la mia. Scrivo per vedere in uno specchio, riflessa, la mia nudità. Quindi sostanzialmente io scrivo per tante ragioni. Scrivo fondamentalmente perché mi diverte. Scrivo per incanalare la follia, cioè riuscire a... La scrittura ha un che di terapeutico, cioè riesce a far superare alcune sensazioni, come la paura, come il dolore, diciamo. Ma poi man mano le vedremo, le analizzeremo, perché sono, sì, sono racchiuse. Le analizzeremo all'interno. Sono racchiuse assolutamente. Il tuo libro, non so, vivendo tutte le emozioni. Tutte nel testo. E ora veniamo invece al libro. Ecco, lo hai titolato Come un albero di nuve. Sì. Beh, è un bel titolo. Sì, è un titolo che nasce in realtà sollecitato da un'immagine che mi capita per caso di vedere. L'immagine di una bambina che corre verso un albero sormontato da una chioma di nuvole. Di fronte a questa immagine io ho cominciato un po' ad interrogarmi che cosa potesse significare, no? E quindi mi è venuta in mente l'idea di chi corre verso i propri desideri, verso i propri sogni. E le nuvole rappresentano un po' l'acqua futura, quindi che non è certo che arriverà, diciamo, che ci si aspetta che arrivi. Quindi, diciamo, la felicità in realtà si può realizzare se si realizzano i desideri, ma può sostanziarsi anche semplicemente nell'attesa del desiderio. Cioè, coltivare sempre i sogni, indipendentemente dal fatto che trovi non meno una realizzazione. Questo è il concetto che era chiuso nella poesia, che vorrei che leggesse, diciamo, il mio posto. Ah, Francesco. Ce l'hai, Francesco, sì. Allora, scusami. No, mi piaceva un attimo sottolineare questo, rincorrere i desideri e i sogni, che io rivolgerei proprio ai nostri alunni che ci stanno ascoltando. È veramente una meta da porsi e per raggiungere quello che più vi piace, che più vi sta a cuore. Ecco, sì. Cioè, vediamo intanto il collegamento. Ah, devi leggere la poesia, ho visto che mi davi col microfono. Ah, no, scusami tu. Me l'avevi chiesto. Ah, no? Vai tranquillo. Come un albero di nuvole, figurarsi l'impossibile come nei sogni di bambina, correre verso i desideri per supportare la speranza. Come un albero di nuvole nel deserto, riparo impensato e acqua futura. Che nell'inganno battezza e disseta, e dell'inutile attesa fa ragione di felicità. Ecco, diamo la parola a Stefania. Ecco, sempre nel libro. Ecco, come è strutturato? Ci sono diverse sezioni? Sì. Vogliamo parlare? Sì, ho pensato di dividerlo in cinque sezioni, che sono intitolate dell'amore, della paura e di altri demoni, poi del caos, della luce e infine dello sguardo. Possiamo cominciare, diciamo, a guardare un po' queste sezioni. Allora, nella sezione dell'amore sono un po' rappresentate alcune delle declinazioni dell'amore, come l'amore atteso, quello desiderato, l'amore pudico, l'amore carnale. Il rapporto fra il tempo e l'amore, e poi l'amore di sé. Tra le poesie, diciamo che io volevo, una in particolare, ne volevo leggere, a cui sono particolarmente legata. Vediamo, devo trovarla. Perché, insomma, i poeti hanno sempre una loro poesia preferita. Sì, diciamo, sono tutte creature, però ce ne sono alcune che forse arrivano anche in momenti particolari, per cui noi diamo anche un significato più profondo. Allora, questa si intitola Pudì complesso. Spogliato dall'uomo, il mare può amare. Accarezza la terra, la sfiora, la bacia e con grazia ritira le mani. Allontana le labbra, lasciandole un po' di saliva, bagnandola appena. Non si addentra, non si scatena. D'amore leggero e innocente, preferisce cibarsi. È un po' la rappresentazione, diciamo, dell'idea dell'amore più pura, più lieve, diciamo, che è contrapposta a quella dell'amore carnale. Sulla, sullo stesso, diciamo, nella pagina a fianco c'è proprio, io ho scritto l'elogio dell'amore carnale, perché sono due aspetti, diciamo, dell'amore. L'amore fisico, che è importante, così come l'amore più fatto di carezze, appunto, quasi un amore che sfiora. Ecco, questa è l'idea. Possono coesistere entrambi. Questo, per quanto riguarda la sezione dell'amore. Poi, questa sezione si conclude con uno scritto che si chiama Amore di sé e che, diciamo, fa riferimento a quello che poi sarà più trattato nella sezione successiva, quella della paura degli altri demoni, perché introduce un tema a me molto caro, che è quello della paura, in particolare del panico. Spiego perché. Perché io, molti anni fa, ho sofferto di attacchi di panico e ho sofferto in forma molto grave. Mi sono curata, ho superato la... Chiaramente, chi è fobico non riesce a superare completamente la paura. La paura si presenta sempre, bussa sempre alla porta. Però, diciamo, il percorso che si fa per superare la paura è un percorso che ti deve portare più che a superarla, diciamo, a convivere con la paura, a riconoscere la paura. Io ci tengo molto a parlarne di questo, non solo perché mi riguarda, ma perché, secondo me, riguarda anche il momento. La fobia, le fobie, diciamo, sono le paure. In questo momento sono legate a tante cose. La paura di morire, la paura dell'isolamento, no? E quindi, soprattutto, diciamo, i ragazzi sono interessati da questo. E quindi è bene parlarne. Forse se ne dovrebbe parlare di più, molto di più. Sembra che sia un tema che non riguardi molti. Invece riguarda tantissime persone. In questo momento ancora di più. E quindi io ho voluto, diciamo, soffermarmi un po' su questo. Non leggerò della paura, leggerò di altro. Perché poi in questa sezione, diciamo che questo testo, l'amore di sé, descrive proprio l'attacco di panico. Come si svolge l'attacco di panico? Come si presenta proprio i sintomi? E si conclude però, diciamo, con una volontà di volersi bene. Quindi un rifiuto. Io chiudo la porta alla paura. Quando lei ricomincia a bussare, io le chiudo la porta. Non le consento più di entrare. E quindi ho ritenuto che dovesse appartenere alla sezione dell'amore. Cioè, perché chi vuole, chi affronta queste situazioni, deve imparare a volersi bene. E quindi deve amare se stesso. Poi, nella sezione successiva, invece, ho rappresentato le paure. Diciamo, la mia paura, il viaggio. Quel viaggio che io non, diciamo, molto spesso non sono partita proprio. E quindi che non ho compiuto. Il rimpianto di un viaggio non compiuto, non fatto, per tante ragioni, per tante cose. E proprio perché, questo è stato proprio la paura che lo ha determinato. Poi, però, accanto alla paura, ci sono tutta una serie di sentimenti affini. Come la tristezza, come la rabbia, come l'ansia, l'inquietudine. Sono tutti sentimenti affini. Affini, ma che hanno anche una loro autonomia. Diciamo, non sono sempre necessariamente legati alla paura. Poi, la sezione successiva, di questa sezione, però, io volevo soffermarmi su uno scritto in particolare, che si chiama Notte l'esa. È uno dei miei primi scritti e rappresenta il dolore che si presenta così improvviso nel sonno. Notte l'esa. Pensieri perniciosi come saette feriscono la notte. Il silenzio si fa fra stuono che irrompe greve. Come vento solleva impetuoso il lenzuolo che copre il dolore. Come luce prima bacina e poi mostra netti i contorni del vero. Come acqua inonda e le membra lasse sommerge. Pensieri taglienti come coltelli infieriscono su piaghe già aperte e alla notte prospettano un altro incontro. È il dolore che viene a bussare nel sonno e che non si presenta solo una volta. Cioè, siccome infierisce su piaghe già aperte, quindi è un dolore che si rinnova e quindi capita spesso che la notte venga così rovinata, diciamo, nel suo riposo dall'intervento di questi pensieri improvviso. Ecco, magari è qualcosa di inconscio, no? Sì, sì, magari, sì, sono pensieri che che magari si presentano così, diciamo, anche nel sogno, no? Che ti scuotono e ti interrompono il giusto riposo, il giusto riposo. Da questa sezione, poi, io sono passata ad un'altra che ho chiamato del caos. Del caos che rappresenta un po', diciamo, tutto, un tumulto che avviene nel mio mondo, no? Nel mondo di tutti, del resto, no? Dove è un mondo fatto anche di contraddizioni, di contrasti, di incoerenza e di difformità. Ed è questa che leggerò, si chiama proprio difformità. È la prima, il primo scritto che apre questa sezione che rappresenta un po' la difficoltà a stare dentro e fuori la società. Cioè, da un lato la necessità di essere completamente liberi, da un altro lato la necessità anche di avere delle relazioni e di poter stare all'interno di un contesto sociale in maniera serena. Ed è un... Adesso io la leggo e poi spiego, secondo me, diciamo, qual è poi la conclusione. Allora, essere dentro e fuori, difficile accordare natura e società. Come l'acqua che ribolle, la mia mente si ribella alla libertà che traballa. Indesiderata, nel mio cuore ascoso mi ripongo e torno fuori se ad un nuovo incontro, un'armonia inattesa, presto ricompongo. Quindi, nel momento in cui... Ci sono dei momenti in cui non ci si sente in linea con le dinamiche sociali. Insomma, non si sta bene in società. E in questi momenti sono i momenti in cui forse occorre ritrovare se stessi per poter ritrovare un'armonia che serve a reinserirsi nel contesto sociale. Infatti, io questo pensiero l'ho rappresentato in una poesia che tra l'altro ho scritto recentemente che non fa parte del libro non fa parte del libro ma che è in un certo senso in linea con questo con quanto espresso in difformità e si chiama La mia solitudine. Accompagno la mia solitudine con risa mute la scuote il rumore acceso della mia voce Con le lacrime talvolta la ristoro perché un dolore cupo non la inondi Discreta è la mia solitudine La curo con le attese La proteggo dalle invasioni smodate La braccio per ricominciare Mite è la mia solitudine Leggera Un faro nel mio girovagare cieco Allora diciamo che per me la solitudine io non avverto la solitudine come qualcosa di negativo perché altro è l'isolamento rispetto alla solitudine La solitudine è invece un momento che serve a stare bene con se stessi che va sempre cercato secondo me va sempre cercato perché solo quel momento ecco perché mi riconnetto diciamo a difformità solo così è possibile poi aprirsi nuovamente a delle relazioni serene con il mondo che sono necessarie io credo molto nella relazione umana ci credo in maniera profonda perché non solo per i valori diciamo a cui sono stata educata ma proprio come necessità io amo lo scambio la comunicazione con chiunque per me è un motivo di crescita e di di crescita proprio umana ecco è quello che trasmetti anche ai ragazzi eh quello voglio riportare eh sì diciamo sì infatti poc'anzi ho ricevuto la telefonata di una mia aluna dell'anno scorso con la quale ho avuto un rapporto molto profondo molto intenso diciamo con cui ancora mi sento e a cui voglio molto bene spero mi stia vedendo perché le voglio mandare veramente un caro abbraccio questo è il momento però dove entrano in scena i nostri alunni delle Naudi con la professoressa Rosy Vistasi con il loro componimento la poesia lascio la parola alla professoressa allora Rosy vieni Rosy vieni accanto a me tanto abbiamo il collegamento sperando che insomma si senta bene Rosy tanto è un piacere rivederti altrettanto un grandissimo piacere è bellissima anche la circostanza la location è tutto perfetto è vero si respira la cultura la libertà di pensiero che è qualcosa di fantastico proprio la creatività in un momento molto particolare dobbiamo dire in cui i ragazzi stanno vivendo un momento molto pesante molto ricco di emozioni anche difficili da gestire e proprio per questo un'unità di apprendimento sul testo poetico che fa parte di tutti i programmi si è trasformato poi in un progetto in un progetto di poesia perché i ragazzi hanno apprezzato moltissimo il fatto di dover mettere in versi sentimenti paure emozioni che è difficile esprimere in maniera spontanea sai per paura per pudore per vergogna ma quando lo devi fare per un compito e allora è diverso quindi abbiamo affrontato questo percorso sul testo poetico e devo dire che quest'anno siamo stati particolarmente fortunati perché abbiamo in classe una risorsa come la professoressa Zipparri che non finirò mai di ringraziare abbastanza per il suo supporto e dunque sono venuti fuori dei testi poetici con la P maiuscola in cui i ragazzi hanno utilizzato la scrittura come fosse quasi una zona di decompressione in cui sfogare ansie paure però la cosa bella che accomuna un po' tutti i testi è quel sentimento di resilienza di speranza quella luce che comunque loro individuano sempre siamo partiti da un'immagine il mare e una barca e loro avrebbero dovuto interpretare questa immagine con questi due soggetti e sono venuti fuori dei testi che avrebbero dovuto rimanere all'interno del nostro contesto classe e invece io ringrazio la nostra dirigente la professoressa caporale perché quando le ho parlato di questo progetto lei è stata entusiasta ecco e ha voluto socializzarlo a tutto l'istituto facendolo diventare il primo certamen poetico dell'istituto Enaudi infatti i ragazzi che hanno partecipato a questo certamen sono la seconda dell'istituto tecnico con indirizzo economico quindi hanno prodotto dei powerpoint con immagini musiche sono stati poi inseriti questi lavori sulla piattaforma dell'istituto e la giuria giudicante sono stati tutti gli alunni dell'Enaudi diciamo che l'iniziativa ha avuto anche parecchio successo e a breve ci sarà anche una premiazione ufficiale dei ragazzi che hanno vinto lo voglio saperlo sarai in prima linea te lo posso garantire i ragazzi quindi riceveranno un riconoscimento un attestato di merito dalla dirigente e loro sono qui i collegati con noi ecco se riusciamo a vederli tanto buonasera ragazzi ecco vediamo c'è Francesco vediamo tanto gli altri sì c'è una piccola rappresentanza della seconda sono stati bravi bravissimi entusiasti hanno lavorato anche in orario non scolastico si sono videochiamati nel pomeriggio insomma ci hanno creduto tanto insomma alla fine di questo percorso devo dire che anche il fatto di aver avuto questo risalto questa risonanza li ha gratificati e questo è bello perché quest'anno lavorare a distanza capisci bene è difficile quindi bisogna comunque interessarli gratificarli farli sentire un'area di normalità ecco questo credo che la scuola debba fare e allora possiamo sentirli o dobbiamo poi se vuoi posso leggerti il testo che è risultato vincitore allora quindi il testo vincitore intanto qual è? allora il testo vincitore si chiama intitolato non temo la tempesta i ragazzi che formano questo gruppo sono Francesco Scolletta Sabrina Labroca Antonio Metta e Alessandro Bilanzoli quindi oltre ad avere avuto un voto in italiano perché voglio dire era sempre un'attività didattica riceveranno appunto come ti ho detto durante la previazione un attestato di merito da parte della dirigente e poi non lo so vediamo vediamo non togliamo la suspense a quello che potrebbe essere ti leggo il testo vi leggo il testo allora non temo la tempesta la barca cauta naviga nel mare sa che si accelera muore ecco che lui le si scaraventa addosso come le angosce che l'uomo porta indosso manda la barca alla deriva le sue onde hanno una forza distruttiva nell'abisso in cui tutto si perde finisce chi nell'urto si disperde nell'agitato mare la barca scompare e mai la terraferma la vedrà arrivare in questo mare addirato con tutto si affanna l'uomo per non uscirne distrutto sono ragazzi di una seconda e quello che volevo sottolineare è diciamo un metodo che guarda la persona in maniera olistica quindi non soltanto le materie professionalizzanti ma anche l'educazione al bello l'educazione al bello che rende le persone in grado di vivere meglio e di essere delle persone migliori assolutamente abbiamo qualche problema tecnico con il collegamento io direi cara Rosi anzi è ritornata se riusciamo ecco chi riesce ad essere in linea chi vedo Alessandra o Antonio Antonio ci sei? ecco allora prendiamo un attimo il microfonino così lo mettiamo vicino al computer possiamo cliccare in pagina dove? ci sono le docenti che ci stanno aiutando eccolo qui Antonio buonasera ecco riusciamo a sentirti lui fa parte del gruppo dei vincitori ah gruppo dei vincitori ti aspettavi questo riconoscimento Antonio? no no ecco il tuo primo pensiero a chi è andato? sentiamo male Antonio ha deciso di intervistare il più timido il più timido della classe no ma tra l'altro oltre alla timidezza credo che sia proprio un problema di collegamento ecco vediamo se c'è qualche altro ragazzo in collegamento che ha Francesco Scolletta ok eccoti qua ti sentiamo tanto buonasera Francesco buonasera ecco parlaci di questo concorso vinto allora sì inizialmente io il mio gruppo sapevamo di aver fatto comunque un bel lavoro però insomma specialmente io ma non solo abbiamo creduto ci abbiamo creduto tanto in questa vittoria ecco abbiamo sperato fino all'ultimo giorno e poi alla fine è stata una grande gioia quando abbiamo saputo i risultati cosa vi siete detti? tra voi e gli amici insomma siamo stati molto contenti e insomma siamo fatti i complimenti a vicenda ecco invece la vostra insegnante cosa avete detto? abbiamo detto che eravamo noi i vincitori perché ovviamente era anonimo sul sito e ci ha fatto i complimenti che bello che bella emozione senti Francesco a voi piace ovviamente scrivere? sì a me piace molto ecco il tuo anche al di fuori della scuola ah quindi veramente abbiamo uno scrittore provetto ecco qual è l'argomento che preferiresti nel tuo libro oggi? io se dovessi scrivere un libro scriverei un libro di avventura azione ah bene siamo lanciati in un progetto di teatro quindi scriveremo un copione qui scriverete un copione per il teatro va bene? sì si vede insomma molto attento ecco Francesco oggi stiamo ascoltando l'autrice Stefania Zipparri hai avuto modo di sentirle in collegamento? sì sì ecco cosa vorresti chiederle? vorrei chiederle insomma come insomma come si sente in questo momento? eh beh sei un poeta e beh giustamente ecco una domanda importante ecco oggi insomma i poeti hanno una grande sensibilità Stefania quindi vivere oggi come come vive oggi il poeta? questa è una domanda che ti avevo fatto però io colgo l'occasione proprio di Francesco per rifartela eccoci Stefania insomma innanzitutto vorrei diciamo precisare che sono prestata alla poesia ma esattamente non mi definirei proprio un poeta mi sembrerebbe un po un po arrogante ma diciamo però diciamo c'è un approccio al testo e c'è un tentativo appunto di scrivere poesia diciamo che la poesia ti dà la possibilità di sentirti di sentirti meglio è quello che dicevo anche a voi diciamo serve anche a scoprire un po' se stessi e a mettersi in relazione con il mondo e quindi diciamo è una soddisfazione tutta propria a prescindere dai riconoscimenti a prescindere da da ogni altra dal successo non si ambisce a questo diciamo chi scrive trova soddisfazione solo nel farlo nel farlo e nel riconoscere a se stessi diciamo la anche una piccola capacità no di non è semplice parlare a se stessi perché il poeta parla a se stesso e io invito voi ragazzi perché tra l'altro in questo progetto fatto svolto molto bene in un momento difficile in cui devo riconoscere alla professoressa di stasi un merito enorme che è quello di in dad è molto difficile trovare delle soluzioni alternative per interessare i ragazzi per coinvolgerli veramente al di là delle programmazioni non standard quindi queste forme in questo momento servono molto a non tenere a coinvolgerli a non tenerli distanti anche si è trattato anche di un lavoro di gruppo per cui si sono comunque sentiti hanno dovuto coordinarsi hanno cercato hanno fatto loro hanno fatto dei powerpoint quindi hanno inserito la musica hanno inserito le immagini quindi tutta una ricerca che li ha tenuti impegnati e li ha portati diciamo a doversi sforzare di trovare un modo per raccontarsi ecco questo è e quindi è questo che dovete fare io lo dico a te Francesco che conosco bene e so che diciamo da parte tua c'è un impegno verso la scrittura penso di avertelo detto anche a lezione che devi assolutamente coltivarla e devi insistere su questo perché ti darà delle soddisfazioni tutte tue al di là di quello che poi potrai regalare al mondo se riuscirai a scrivere ecco intanto vorrei passare la parola a Francesco ecco per noi perché direci qualcosa di bello sì assolutamente assolutamente due cose devo dire veramente una è quella che mi riallaccio un attimo al concetto espresso dalla professoressa di Stasi sulla bellezza io ho fatto un post proprio invitando i concittadini a rendere più bella questa zona insieme all'antica libreria del corso dovremmo valorizzare Flavio Gioia e parto proprio da una frase conosciuta che è quella di Dostoievski che scrive nel suo testo l'idiota e poi lo conferma nel testo successivo la bellezza salverà il mondo se noi proviamo ad avere il gusto della bellezza e la poesia ci avvicina proprio a cogliere questo aspetto sicuramente cresceremo seconda cosa che voglio dire è che i nostri ragazzi io li ritengo un po' nostri insegno all'ITC all'ITET attualmente dal 95 e devo dire che abbiamo dei ragazzi fantastici seguono le lezioni sono veramente preparati è bellissimo poter esprimere questo concetto perché il professore che entra e si sente accolto a qualsiasi ora va è una cosa veramente da testimoniare anche all'esterno quindi questi ragazzi oltretutto abbiamo deciso proprio insieme con la con la collega lei non ama definirsi poetessa perché ha la sua prima opera ma sicuramente ne seguiranno delle altre di premiarli tutti e quattro con un libro della poetessa a cui lei farà una dedica quindi questo rimarrà un segno preciso in questo momento per la vita scolastica di questi ragazzi che spero continui visto che hanno anche una docente che le consente gli consente di poter proseguire in questo cammino bravi ragazzi sarete premiati ah che bello che bello gli piace ecco intanto anzi faccio una cosa Stefania apretti tu il microfono ecco io torrirei ora nuovamente al libro e alla copertina di questo libro se riusciamo a inquadrare ecco qui Stefania Zipari come un albero di nuvole vediamo delle immagini ecco la copertina ecco questo questa sinergia tra la scrittura e l'illustrazione e il disegno sì allora queste illustrazioni appartengono a mio zio Giuseppe Imbrici che vive a Bari e diciamo che ha questa ha tirato fuori questa sua modalità espressiva attraverso questi disegni che sono un po' visionari un po' nirici e che racchiudono un po' tutte le sue tutti i suoi gusti diciamo dall'amore per lo scritto per la per la lettura per la la musica diciamo per l'arte diciamo che alla fine riassumono un po' tutte queste sue passioni e anche quella una visione del mondo non sono stati fatti apposta per i miei scritti vorrei precisarlo e e questo per me è anche più importante perché perché c'è stato un incontro fra lo scritto e il disegno che è stato un incontro che noi abbiamo cercato perché noi ci siamo proprio incontrati abbiamo messo insieme abbiamo visto se c'era c'era un fil rouge fra i disegni e i testi e e abbiamo quindi trovato un punto di contatto per cui diciamo su una determinata un determinato argomento ci sono venute fuori due modalità espressive differenti non solo diciamo per me questo libro ha un valore aggiunto proprio perché è fatto a due mani con una persona a cui sono legata affettivamente da bambina è un rapporto molto stretto un rapporto anche fatto di scambio soprattutto durante questo periodo pandemico io ho trattenuto rapporti telefonici epistolari con mio zio continui e poi che sono poi si sono conclusi in questo progetto comune che è un progetto d'affetto d'affetti diciamo oltre rappresenta anche questo e il suo valore aggiunto perfetto e allora che tipo di messaggio invieresti ai lettori allora io mi sento di sollecitare sempre tu io mi sento di invitare tutti in genere alla lettura alle letture di qualunque genere di lettura si tratti perché può sembrare una banalità dirlo scontato la lettura naturalmente apre la mente stimola il ragionamento critico conduce il ragionamento critico all'immaginazione sviluppa la fantasia ti consente un viaggio una scoperta la lettura e tante cose la poesia in particolare consente di entrare nei mondi negli universi umani piccoli o grandi insomma a seconda di chi incontriamo e non solo ma per quanto sia generata da da un individuo solo alle volte il poeta viene considerato quasi come un'eremita in realtà però il poeta crea socialità nel senso che chi lo legge costruisce con lui una relazione una relazione che serve anche per le sue relazioni quindi per me la poesia è socializzazione grazie Stefania ecco Francesco vuoi dire qualcosa sì intanto c'è un'altra sorpresa perché mi fa una serata ancora due cose una vi leggerò una poesia inedita che non appartiene alla rassegna che è presente nel libro e si chiama l'attesa l'attesa aspetto che la tempesta si calmi e il petto si apra al respiro che il nodo che stringe gli affanni si disfi in un lungo sospiro aspetto che arrivi la quiete a raccogliere il tempo inadempiuto che allunghi le ore più liete e rimuova la perdita dell'incompiuto è molto bella questa l'attesa complimenti Stefania poi un'altra cosa prima di finire intanto ho trovato proprio questa definizione di un certo Giuseppe Semeraro che non conosco ma che mi è piaciuta dovendo presentare una poetessa dice proprio a cosa serve la poesia e lui scrive la poesia serve ad abbracciare dove non arrivano le braccia a carezzare dove non arrivano le mani a baciare dove non arrivano le labbra aggiungere dove finisce la voce e anche questa veramente è completo dopodiché ti passo la parola a Claudia e mio desiderio regalare il primo manifesto di questa iniziativa fatta dall'antica libreria del corso quando piovono libri crescono le idee alla nostra Stefania Zipparri che lo terrà spero come ricordo di questa sua prima in assoluta e che porti fortuna per i prossimi per i prossimi libri per te grazie grazie Francesco ecco no io allora facciamo una cosa facciamo firmare per la prima volta Francesco eh allora Francesco firma intanto la locandina così Stefania avrà un bel ricordo anche del tuo autografo perfetto beh ci siamo ecco dove vuoi dove vuoi insomma figurati dove vuoi ecco qui che bel momento ovviamente chi vorrà acquistare il libro dalla nostra Stefania Zipparri può raggiungere qui l'antica libreria del corso grazie grazie a te e allora poi c'è la consegna ovviamente di questi libri ai ragazzi sì io credo che possiamo anche anticipare volendo la data non so se la professoressa conferma stabilita una premiazione istituzionale con la nostra dirigente che premierà personalmente i ragazzi e avverrà a scuola ancora non abbiamo una data definitiva perché siamo nel pieno svolgimento degli scrutini quindi terminate queste incombenze scolastiche sicuramente per la prossima settimana sarà individuata una data e ci sarà una cerimonia degna conclusione di un certamen assolutamente sì intanto vorrei ringraziare scusami Rosi vorrei ringraziare i ragazzi che erano in collegamento con noi purtroppo ovviamente queste linee vanno e vengono e quindi veramente devo fare anche assolutamente sì lo facciamo Francesco intanto salutiamo Cosmiana Belvedere Giorgia Limitone Francesco Scolletta Alessandra Carlone e Alessandro Bilanzuoli e Antonio Metta come non posso dimenticare Antonio ecco grazie ragazzi per essere stati con noi in collegamento ovviamente io vorrei salutare uno ad uno poi li leggete perché sono tanti messaggi che sono arrivati per te cara Stefania ovviamente facendo i complimenti e invece Francesco cosa vuoi dirmi eh tu sei un vulcano siamo prossimi per un altro firma copie questa volta vede due autori Canusini Alfonso Pistilli e Imbrici Francesco eh firmeranno il loro ultima la loro ultima opera andate e ritorna Canusa Roma che bello e li vogliamo qui due giovani strepitosi io li riconosco insomma li saluto ecco quindi vi aspettiamo e noi ci siamo sempre Francesco ormai quando c'è la cultura ecco c'è la libertà la creatività non possiamo non esserci assolutamente in quanto giornalista proprio sei una testimonial di questa cultura assolutamente cara Stefania raggiungo te qui al centro perché so che sei stata molto emozionata eh decisamente è la mia prima prova in pubblico che io generalmente rifuggo dall'esposizione pubblica però diciamo anche questo era un modo per mettermi in discussione è un atto di coraggio spero insomma che la prova sia stata superata assolutamente sì io vorrei fare una bella inquadratura ecco partendo qui dalla mia Rosi dico Rosi perché insomma abbiamo collaborato insomma in una bella iniziativa scolastica facciamo vedere questa bellissima libreria e le insegnanti ecco le salutiamo sì la professoressa Fernanda Faretina Antonella Parbarossa e Paola Il Falco ecco grazie ragazze siamo in poche proprio per insomma rispettare ovviamente quelle che sono le restrizioni dovute al è bello pure dire sentire la giornalista che dice salutiamo le ragazze noi siamo una scuola piena di ragazze quindi mi sembra il caso di sottolineare questo bella aspetto sono tutte di bella presenza è uno spot io sono felice sono felice credo che si veda e si senta ecco però voglio dire lo stesso sguardo quando verrà Alfonso con Francesco sarà sicuramente più basso scherziamo quando è l'appuntamento lo sappiamo non ancora non ancora perché stanno aspettando che arrivino le copie ecco quindi attendiamo ovviamente appena arriveranno pubblicheremo assolutamente sì grazie Claudia grazie infinite per la tua presenza proprio e per la tua disponibilità sempre i nostri lettori grazie Stefania grazie a voi mi raccomando noi siamo pronti posso fare un ringraziamento a Mario che è un operatore speciale eccezionale e si sorbisce tante di queste nostre puntate grazie Mario per essere con noi grazie questo è tutto e buona serata